Un ragazzo di 23 anni si è dato fuoco dopo una lite con la fidanzata ieri sera, verso le 23, in via Giuseppe Cossu, zona esposizione a Roma. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con ustioni sulla parte frontale del corpo al Sant'Eugenio. È in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne si è chiuso in bagno e con una tannica di benzina ha piccato il fuoco. La fidanzata ha chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Un episodio simile è avvenuto anche in mattina attorno alle 10.30 in via Paolo Albera 50. Un clochar si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco. A spegnere le fiamme sono stati alcuni cittadini. La vittima è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice rosso. Non è in pericolo di vita. In questo caso non si conoscono i motivi del drammatico gesto. Indagano i carabinieri della stazione Roma Tuscolana e della compagnia di Piazza Dante.